Giorgio Chiellini è ufficialmente tornato alla Juventus. L'annuncio fatto dalla Juventus lo scorso lunedì ha informato che Chiellini assumerà il ruolo di direttore delle relazioni istituzionali del club. Chiellini non ha mai smesso di essere bianconero, nel suo cuore, nella sua anima, nei valori che ha sempre incarnato, dentro e fuori dal campo. Da oggi indosserà la maglia da dirigente, iniziando un percorso gestionale che lo vedrà coinvolto nella rappresentanza del club nei rapporti con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali. Questa funzione si inserisce perfettamente nella formazione che Giorgio ha acquisito nella sua area accademica, ma anche nella sua figura di uomo, calciatore, capitano e leggenda della Juventus, diceva il comunicato della Juventus. Federico Gatti è stato uno dei migliori difensori del calcio italiano negli ultimi anni. E la Juventus non vuole perderlo. Giuntoli ha già avviato il processo di rinnovo, offrendogli un contratto fino al 2030, con un significativo aumento economico, che porterà il suo stipendio da 1,3 milioni a 2,5 milioni di euro. A mio parere, questo rinnovo è assolutamente meritato. Gatti, insieme a Bremer, è stato costante nelle sue prestazioni.